Musica Benvenuti a tutti i nostri telespettatori su Globus Television, il saluto da Simona Mazzone. Adesso le notizie di oggi giungeranno da tutta Italia i finalisti di Capri 100 Città 1978. Cento Città fu il primo talent show della storia dello spettacolo musicale italiano e oggi dopo 38 anni i finalisti dell'epoca si riuniscono a Roma dove il 22 ottobre si svolgerà la storica Regnum in cui per la prima volta i partecipanti si troveranno ancora su uno stesso palco facendo riemergere i sogni ed emozioni condivisi quel giorno di 38 anni fa. Il locale è scelto per l'occasione un meraviglioso casale che si trova su una collina che domina Roma e loro arriveranno da Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna. Presentato ieri sera al Cinema Odeon di Catania il film West Blood Story di Mel Stottman. Per Globus Television Enzo Stroscio ha intervistato il regista. Sentiamolo. Globus Television Enzo Stroscio siamo qui al Cinema Odeon per parlare di film e che film credo che oggi si chiuda una troica di film importanti che hanno una caratteristica vuoi dirla tu e siamo qui con la presenza del regista e fautore di tutti questi eventi Mel Stottman. Ciao Enzo, ciao Globus Television, grazie di essere qui. Oggi si chiude la parte organizzativa di questo ciclo di film e anche la parte artistica nel senso proprio propedeutico della parola perché noi stiamo cercando di andare avanti. Quindi è una prima fase. Quindi sono i tre film che accompagnano i successivi che saranno molto più incisivi dato che finalmente grazie anche ai cinema che ci stanno appoggiando e anche alle televisioni che ci stanno appoggiando siamo riusciti a trovare delle distribuzioni. Allora parliamo storicamente del primo film che era Il Pozzo del Diablo The Legend nel 2013-2014, poi siamo passati a E Gringo spara per primo che ha consolidato questo spaghetti western siciliano ovviamente. Per finire stasera con la prima di Wet Blood Story. Sì, in sintesi siamo partiti con questo western che è Pozzo del Diablo The Legend che già è meno contaminato degli altri. È proprio un tipico spaghetti western quindi su western all'italiana che era recitato in inglese e con sottotitoli italiani. Girati nella provincia di Catania tra Paternò e Sferro che è parte fondamentale perché a Sferro come sai hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale. C'è stato questo scontro tra i tedeschi e gli italiani e gli americani. E gli attori? Gli attori erano Reni Zapato, Tony Russo, poi c'era Giulia Fiume che oggi potremo vedere anche in diverse fiction italiane. E poi c'era anche Alberto Cerro, insomma Donatella Turillo, insomma ora tutti quanti non me li sto ricordando. Però eravamo un bel cast, ci siamo divertiti molto. Giuseppe Scaccianoce che è il campione del mondo di ballo country. Le moto? Le moto sono arrivate con E Gringo spara per primo mori. Noi abbiamo un club, siamo la Social Rockers Club, abbiamo pensato bene insieme al Club 59, che è un club di motociclisti internazionali, di unire il mondo motociclistico a quello proprio western. E funzionava, è una fase alla Rodriguez, questa è la fase sperimentale di cui parlavamo prima. Perché inizia proprio in questo momento la fase sperimentale che concludiamo poi con West Blood Story. Sono i nuovi cavalli? I nuovi cavalli, sì esattamente. Le Harley Davidson hanno già la dinamica e lo stile di cavalli, quindi noi che siamo più per le Harley che per altre moto, abbiamo pensato bene di introdurle all'interno del film. Mel, quando nasce questa esperienza? Qual è stato il primo Movens di questa tua nuova avventura? Diciamo che è nato, nel senso io prima mi occupavo, dopo l'università, ho partecipato a diversi festival, New York Film Festival, Berlino Film Festival, Lucania Film Festival, esistono tutti comunque festival e come tanti altri che si occupavano di temi sociali e quindi ho parlato dei problemi extracomunitari, ho parlato della violenza sulle donne, ho parlato dell'usura, solo che poi incontrando un mio amico che si chiama Reni Zapato, siamo seduti a tavolino, abbiamo pensato, cioè a noi piace divertire la gente, nel senso già pensiamo che ce ne sono tanti che parlano di questi problemi, anche i documentari stessi, insomma i dossier fanno un ottimo lavoro e noi siccome siamo degli amanti del cinema di genere e per cinema di genere intendiamo dallo spaghetti western, dal poliziottesco all'italiano, anche alla commedia sexy all'italiana, allora ho detto mettiamoci qua, solo che quello che potrebbe attirare più l'attenzione proprio per il tipo di lavoro impegnato era lo spaghetti western, perché ci sono i cavalli, ci sono le pistole, insomma ci sono delle dinamiche che sono tragiche, la vendetta, il duello e abbiamo pensato di iniziare da questo. Cosa succede questa sera all'Odeon di Catania? All'Odeon di Catania, appunto come abbiamo detto, si conclude la fase sperimentale, è interessante vedere tutti i film che abbiamo fatto, come tu sai, da Pozo del Diablo fino all'ultimo è West Blood Story, dei gringo in mezzo, perché diciamo che anche tecnicamente possiamo vedere i passaggi, infatti i gringo è fatto con i mini dv, poi l'altro l'abbiamo fatto in hd e finalmente abbiamo lavorato anche in 4k, quindi c'è già le modalità tecniche che sono migliorate, la regia è sempre la stessa, le dinamiche cambiano anche se diventa sempre più divertente, infatti nei gringo sparerò più umori c'è anche Brigantoni. Certo, tanti ospiti appunto dicevamo per concludere, tra cui c'è Reni Zapato, i Cellis Angels e poi anche Paco Tosto con la sua string band. Sì, loro che fanno parte del West Blood Story perché Renato, Reni, a parte che fa un cameo divertentissimo in cui rappresenta Zorro è un fuoriscena divertentissimo e qua fa il produttore esecutivo perché era impegnato in un altro film quindi è potuto stare poco con noi. Per quanto riguarda invece West Blood Story, diciamo c'è anche i cast, sono confermati Tony Russo, poi si è vicino a Carla Celano, Sebastian Mandraffino, le Charlie's Angels, c'è gli Angeli di Charlie, Valentina De Franco e componenti della banda, Sabina Rossi che conosciamo, Genin Bongiovanni e tanti altri che hanno fatto parte di questo cast Riccardo Vinci Guerra, Giuseppe Tomaselli, insomma tutte le persone, loro due sono già, Riccardo e Giuseppe sono abbastanza quotati qua nel teatro a Catania. Diciamo che questa è stata la parte che chiude, come dicevo prima, la parte sperimentale. Appuntamento quindi al Cinema Odeon con West Blood Story e tanti amici qui da Globus Television. Di imminente uscita il nuovo singolo di Giuseppe Testaì, When I Feel, a cui farà a seguito il relativo videoclip con protagonista Simona Leonardi per la regia di Marco Ferrara. Il suo primo singolo dal titolo Mille Parole lo porta in tutte le radio di Catania e provincia e viene invitato a sostenere la manifestazione di Teleton nel 2013 proprio con il suo brano inedito. Partecipa nel settembre del 2015 al festival Lavica Rock nella categoria inediti con la sua band The Scandal, piazzandosi al terzo posto e vincendo la prima edizione del festival Rock Evolution. E il console della Zeberjan per la Sicilia e Calabria, dottor Domenico Cocco, ha visitato l'odontoiatria riabilitativa per pazienti disabili dell'ospedale Ferrarotto. La visita è stata organizzata dal dottor Nino Pressipino, presidente della commissione disabilità del distretto Rotary, in collaborazione con il Rotary Club Catania Duomo 150, rappresentato dall'avvocato Antonino Amato e con il club di Bronte, rappresentato dal presidente del dottor Giorgio Giannotti. L'incontro è servito per buttare le basi della realizzazione di un progetto che miri a favorire l'attuazione anche in Azerbaijan di modelli operativi sanitari a favore di quelle persone con disabilità che presentano problematiche di tipo odontoiatrico. E a Roma, dal 18 al 23 ottobre, viva Falcone di e con Antonio Lovascio in scena al teatro Lo Spazio. Partendo da una storia autobiografica, il racconto passa attraverso la carne di Salvatore Sanfilippo, vero e proprio eteronimo di Antonio Lovascio, che narra il suo viaggio in Sicilia attraverso ricordi, epifanie e azioni che lo porteranno a trasformarsi continuamente, ad entrare e uscire da molteplici personaggi e da svariate situazioni. E con questo appuntamento anche per oggi è tutto, vi ricordo che tutte le notizie e gli aggiornamenti potete trovarli sul sito www.globusmagazine.it. Non mi resta che salutarvi, grazie per averci seguito.